La festa è stata Eccezionale Ti hanno detto che ripulire tutto è compito tuo, vero? Cioè, posso aiutarti? Un po' Dovrei solo ripercorrere la festa per schiarirmi le idee? Non è strano che fosse tanto interessata al funzionamento del loro sistema dati? Sì, mi rispondo da solo Sì, parecchio Credo che... immagine mi abbia detto una cosa importante ieri sera Ma cosa? Pensa, 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 no, 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 aia Basta pensare Pensare fa male La beata ignoranza, meglio quella Ci sono? Immagine ha detto di essere stufa di non conoscere la sua identità E ogni volta che cerca risposta è come se qualcuno fosse un passo avanti a lei E poi ho detto una cosa che, beh, pensavo fosse una battuta divertente Ma riflettendoci meglio La voglia di pensarci mi è passata del tutto La voglia di pensarci mi è passata del tutto La voglia di pensarci mi è passata del tutto